Incendio in un ricovero di attrezzi agricoli a Fonte Alto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, le fiamme si sono sviluppate all'interno di una baracca, nella quale era custodita anche una bombola di gas. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco, Veneto e Bassano, che hanno prontamente isolato il pericolo e messo in sicurezza l'intera zona. Le fiamme, fortunatamente, non hanno provocato feriti.